Professor Maurizio Garandini, dirigente dell'Istituto Comprensivo Porsellino di Valenza, ma oggi per parlare di Cestingeo, perché Cestingeo compie 15 anni, intanto che cos'è, che cosa si propone? Cestingeo è la cronica Centro Studi Internazionali di Geopolitica che fondammo 15 anni fa, con dei partner di eccezione, quali l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nelle sue massime esposizioni, che sono il Presidente, che è il Professor Riccardo Redaelli, e il Direttore Scientifico, il Professor Andrea Plebani. Ci occupiamo di formazione permanente per i docenti e per gli studenti delle quarte e quinte degli istituti in rete, che sono i Cellini di Valenza, il Balbo di Casale e le Ardi di Casale. Quindi, buon compleanno e buone iniziative, sappiamo che domani, ovvero venerdì, inizia questo nuovo anno. Domani inizia l'avventura di Cestingeo con un incontro importantissimo, perché si parla della guerra tra Arabi, Palestinesi e Israele.